Ciao a tutti, le nostre strade si sono divise. Lei tornerà sui suoi passi? Chi fosse interessato ad avere una risposta a questa domanda, segua il video. Nel frattempo, iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e iscriviti al nuovo canale Felicità Benessere, di cui ti posto il link in descrizione. Allora, mescoliamo le carte, tagliamo, giriamo e tra le tante carte a disposizione ne vado a scegliere quattro casuali, carta 1, carta 2, carta 3 e carta 4. Allora, concentrati su questa donna, della quale vuoi sapere se tornerà sui suoi passi. Prendi tutto il tempo necessario, puoi anche stoppare il video e poi farlo ripartire. Dopodiché scegli la carta 1, la carta 2, la carta 3, la carta 4. Per chi ha scelto la carta 1? Direi di sì, c'è un innamoramento e quindi la volontà di tornare indietro. Per chi ha scelto la carta 2? L'inizio è ancora lontano e poi eventualmente ci potrà essere, ma non è così sicuro. Chi ha scelto la carta 3? Allora, è una donna che è molto materialista, ama i rapporti pragmatici, quindi bisognerebbe farsi percepire un po' più come pragmatici da questo punto di vista. Per chi ha scelto la carta 4? No, attraverserà un periodo di solitudine, quindi non è previsto un ritorno perlomeno in tempi brevi. Per questo video è tutto, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramaschi, iscriviti al canale e iscriviti al mio nuovo canale Felicità e Benessere, di cui ti posto i link in descrizione. Ciao a tutti!